Allora ora analizziamo, tornando sempre parlando di calcio, lo facciamo dal punto di vista economico, lo stiamo facendo molto in questi giorni. Buongiorno Barbara Ricci. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Lo stiamo facendo molto perché anche nel calcio l'economia è diventato qualcosa che appassiona nel bene o nel male, volenti o non volenti tutti, perché la situazione è difficile anche da quel punto di vista, in particolare nel nostro calcio. Partirei Barbara con te analizzando il discorso degli stadi. Ieri abbiamo visto una nazionale giocare in uno degli stadi più noti del nostro calcio anche al mondo, che è San Siro, che è uno stadio molto grande, per carità, di questa parziale consolazione, però è uno stadio semivuoto. Certo, infatti è stato abbastanza triste vedere quelle immagini e pensare anche che le stavano vedendo nel resto d'Europa e in tutto il mondo. In verità l'afflusso allo stadio è stato buono, lo stadio è molto grande. Il problema non è solo del calcio, in questi mesi ne abbiamo letto, ne abbiamo scritto, abbiamo sentito molte opinioni. È un problema un po' generalizzato dovuto alla crisi, ma anche dovuto al mercato dell'entertainment in generale. La musica sta soffrendo, sta soffrendo i teatri. E credo che il calcio in questo momento, il calcio italiano, stia dimostrando un po' di immobilismo. Nel senso che se c'è un problema, chi fa il mio mestiere, chi si occupa di marketing, deve cercare di risolverlo. Per esempio, nella partita di ieri, forse con una politica di prezzi un po' più modulata e adeguata alla situazione, si poteva evitare di avere lo stadio vuoto, dando uno spettacolo, senz'altro televisivamente, di maggiore impatto. E permettendo anche a delle fasce di popolazione che altrimenti non hanno accesso, perché comunque ricordiamo che senza considerare i posti di primo livello, la tribuna rossa, che è proprio il top, sono i posti migliori di San Siro, ma se un papà voleva andare allo stadio col figlio sedendosi in tribuna arancio, avrebbe dovuto spendere almeno 75 euro. 50 per il papà e 25 per il figlio. Ieri era aperto il Terzo Anello, le curve di Terzo Anello, ma che senso ha aprire fino al Terzo Anello, con dispendio di risorse e di personale, perché uno stadio così grande tiene 83 mila persone da presidiare, quando forse si potevano chiudere dei settori in modo da avere un tifo più raccolto e senza altro delle immagini migliori e anche per la squadra, senza altro un parterre migliore. Ti voglio fare subito un salto al discorso Juventus, perché noi facciamo sempre il paragone con lo stadio della Juventus, che è ciò a cui dobbiamo guardare, perché è l'unica società nel nostro calcio che ha uno stadio di nuova generazione, ma molto più piccolo. Ora, senza andare a tirare fuori vicende per cui storicamente i tifosi della Juventus non vanno allo stadio in numero come quelli del Napoli, ad esempio della Roma o anche di Milan e Inter. Però forse bisogna semplicemente guardare al fatto, e chiarite se questa è la realtà, che il calcio è cambiato, lo spettacolo è cambiato, più gente lo vede a casa e quindi forse conviene avere dei bacini inferiori pieni però. Assolutamente. La domanda e l'offerta di biglietti si incontrano difficilmente. Chi gestisce una società di calcio lo sa. Hai moltissime partite in cui i biglietti non te li chiedono, ci sono gli abbonati ma chi deve acquistare un biglietto non viene in quella partita. E poi ci sono quelle partite che tutti conosciamo, dove tu potresti avere il triplo dei posti e non ti basterebbero mai. E allora, senz'altro, la scelta della Juventus, che è una scelta in linea con gli altri paesi europei, di avere uno stadio più piccolo, ma con una percentuale di riempimento che sfiora il 90%, il 92% per tutto l'anno. I dati consuntivi dell'anno scorso sono stati questi, e anche i dati delle prime partite di campionato sono questi. Senz'altro ti permette una gestione ottimale, hai dei costi inferiori e hai uno stadio che offre uno spettacolo. E un'esperienza, che poi è quello su cui si lavora oggi nel mondo degli eventi, proprio dare un'esperienza particolare, speciale, a chi viene a vedere uno spettacolo, che è uno spettacolo di musica, di teatro, piuttosto che di calcio. L'obiettivo, quello che leggiamo in continuazione per tutte le società di calcio, dal punto di vista del marketing, è evitare che la gente arrivi mezz'ora prima della partita e vada via cinque minuti dopo, riempirli la giornata in strutture che consentono altro. Però l'obiettivo è solo teorico, se non offri una struttura che possa permettere di fare altre cose, di mangiare a fasce di prezzo diverse, di intrattenere i bambini, avere parcheggi comodi, mezzi di trasporto comodi. E' chiaro che tutto questo, poi non possiamo di tutto questo farne carico solamente alle società. Sono argomenti che impattano moltissimo con l'aspetto pubblico, perché i trasporti non dipendono dalle società, perché le aree su cui costruire... La Juventus è un esempio, ha avuto la lungimiranza di pensarci per tempo. Comunque lo stadio ha debuttato lo scorso anno, ha aperto lo scorso anno, ma è stato progettato molti anni prima. E bisogna andare in quella direzione, bisogna che tutti lo capiscono. Anche perché se facciamo il confronto con le squadre straniere, non è solo una questione poi di spettacolo. Ovviamente i numeri sono diversi. Quando poi si parla di crisi del calcio, bisogna anche considerare che nel nostro calcio, oltre il 50% degli introiti delle società derivano dai diritti televisivi. Il 55%. Il resto, se lo dividono i ricavi delle partite, è molto basso, il 17%, anche se è la seconda voce. Gli sponsor, che in questo momento stanno tenendo, rappresentano il 12%, ma le squadre stanno facendo molto bene, perché c'è stato anche un piccolo incremento. L'accessione dei calciatori, sui quali ora non parliamo. La pubblicità, il merchandising allo 0,7%. Questa è una voce che sicuramente deve crescere moltissimo. Quanto siamo più o meno all'estero? All'estero siamo intorno al 20%, con punte di 24-25%. Per il merchandising? Merchandising e stadio. Ah, ok. Con punte, con il sempre citato Manchester United, che arriva al 33%. Ovviamente loro sul merchandising hanno un modello di business diverso, hanno fatto scuola, eccetera. Però, senz'altro, queste sono voci su cui le società devono lavorare, perché è inutile dire c'è un problema e poi non sviluppare. Siamo 20 punti percentuali sotto per quanto riguarda la parte del marketing. Esatto. Che non sono pochi. Anche perché poi è vero che oggi, magari per le società, può sembrare soddisfacente questo 55% di introiti che deriva dalla TV. Ma per quanto può tenere questa percentuale se poi si impoverisce l'evento, si impoverisce l'emozione che poi arriva dai campi. Quindi, forse, alcune delle cose che andrebbero fatte non si possono fare nel breve periodo. Però le squadre, secondo me, dovrebbero cominciare a pensare che magari fare entrare anche le persone a un costo simbolico e offrire altro, comunque continuare ad abituare le giovani leve ad andare allo stadio, le famiglie farle andare allo stadio e magari poi vendergli la bibita, vendere il merchandising e accontentarsi di un biglietto ancora magari venduto a poco in certi spettacoli. D'altro canto, non si inventa nulla. Celentano, con i due concerti dell'Arena, ci ha insegnato che si possono vendere anche i biglietti a un euro. Ha riempito l'Arena e lo spettacolo televisivamente era fantastico. Certo, ha venduto televisivamente. Chiaro, ma questo però è un discorso fattibile solo negli stadi che verranno. Si smonta lo studio, ma non c'è problema. Solo negli stadi che verranno. In questi stadi qui è possibile fino a un certo punto, no? Perché comunque il bar è sempre una struttura che lascia molto a desiderare, non c'è altro. Spesso non di proprietà, non direttamente gestito dalle società perché gli stadi, ricordiamolo in Italia, sono pubblici per cui anche le concessioni all'interno molto spesso non sono gestite direttamente dalle società. Sì, certo, però dobbiamo cominciare a parlarne. È troppo semplice leggere i titoli di giornale dicendo che stadi vuoti diminuiscono gli spettatori allo stadio. In verità, poi, se andiamo ad analizzare i numeri, è una tendenza in atto, ma i numeri in valore assoluto e le medie delle ultime stagioni non dicono quello, grazie anche al fatto che, per esempio, quest'anno sono tornate in A delle squadre importanti con un bacino importante. e la tendenza però è quella, insomma, quindi non c'è probabilmente un allarme immediato, però le società dovrebbero lavorare un po' più su questi aspetti. Partendo dal presupposto che poi questo necessita di un intervento notevole dall'alto, la famosa legge sugli stadi che ha iniziato il suo iter che può essere anche molto lungo, può anche arrestarsi, quindi vedremo. A tuo avviso, non dico allinearci, ma metterci in scia, parlo della Germania, ad esempio, che è uno dei campionati a cui ora si guarda molto, quanti anni ci possono volere per il nostro calcio? Presupponendo che tutto vada bene, poi ci sono gli intoppi e quindi... Allora, allinearsi alla Germania sarà dura, perché loro hanno avuto i mondiali che senz'altro hanno sfruttato meglio dei nostri ultimi mondiali che ci hanno lasciato queste cattedrali nel deserto. Voto europei nel 96, mondiali nel 2006. Ricordiamoci che lo stadio delle Alpi è stato già demolito e San Siro... No, ho sbagliato, chiedo scusa, erano in Inghilterra nel 96, andando a memoria. Prego. Abbiamo avuto il delle Alpi già demolito e il San Siro, che nonostante la ristrutturazione dimostra i limiti che abbiamo visto e poi ci sono senz'altro stadi messi peggio. Quindi ce ne vogliono molti, ce ne vorranno molti di anni. D'altro canto ci vuole un cambiamento un po' anche di tutto quello che sta intorno, perché se parliamo di merchandising, per esempio, abbiamo il problema della difesa dei marchi delle società, che anche lì non dipende solo dalle società. Le società hanno fatto il possibile in questi anni per rendere riconoscibili e difendibili i propri marchi, con registrazioni che costano anche molto denaro. Poi però, se davanti a un giudice quel prodotto non ufficiale è perseguibile e in un'altra sede di tribunale non è perseguibile, diventa anche molto difficile. Basta andare davanti a uno stadio per vedere ancora quanto dobbiamo lottare con il falso. E quindi è chiaro che sono tutti fenomeni che concorrono allo status quo. Non credo che con la crisi che c'è le società e il calcio italiano si possa permettere il mantenimento di questo status quo che comunque sta cambiando in peggio. Non ce la faccio proprio a strapparti un ottimismo nel finale di questa piacchierata? No, l'ottimismo io ce l'ho perché so la professionalità che c'è all'interno delle società di calcio, di alcune società di calcio in particolare. So che lavorano e quindi so che poi quando c'è la necessità facciamo sempre grandi cose. Il calcio è un vettore di comunicazione, di trasmissione di valori molto importante e quindi credo che a un certo punto si dovrà per forza di cose fare cerchio intorno a questi problemi e cercare di risolverli. La Juventus credo che abbia dato un buon esempio. La Serie B, ecco, possiamo anche parlare di questo, la Serie B sta portando avanti un progetto, l'ha presentato due giorni fa a Roma, B Futura, dove lo stadio, i nuovi stadi, i modelli di stadi nuovi sono il fulcro, Abodi ha detto che tra sei mesi cominceremo a vedere i risultati, magari non saranno sei mesi, io penso che sarà un po' di più, però è importante che già la Serie B si stia attrezzando, anche perché si parte da stadi di dimensioni minori, quindi può essere anche più semplice il cambiamento. Grazie per essere stata con me Barbara Ricci. Grazie a voi. Grazie.